Ciao YouTube, oggi parliamo di pompe di calore aria-acqua, qui c'è la mia pompa di calore per una sola produzione a cacali sanitarie, fuori c'è, non si vede più di tanto, ma c'è l'annunissima giubata, e qui c'è il mio scambiatore aria-acqua, qui c'è la centralina di controllo pacchietto 031, i lavori sono ancora in corso, siamo venuti a scetturare un collettore che sia in una cittina opera, che vive la fatica, base di espansione, e compagnia bella, l'inviato di distribuzione è a venti con lettori idronici, che possono indistintamente essere diventati con acqua fredda o con acqua piazza. Un saluto a tutti, ciao a tutti!